nuvole scie quando dico che ogni dubbio è lecito ogni dubbio è lecito guardate il video che mi ha inviato un pilota di aereo un amico un vero amico guardate ragheroba bianco senza matricole senza niente con questo bubone sopra enorme lì proprio manco l'aeroplano della spectre caro robbie anche oggi il nostro forco lavoro l'abbiamo fatto guarda che roba nostro aeroplano anonimo senza matricola ora tagliamo la testa sta nuvoletta che l'unica nuvoletta naturale resto abbiamo fatto tutto tutt'ora guarda che macello guarda che macello mamma mia che casino ragazzo poi tagliamo la testa perché l'unica che non è guarda sopra altre nazioni guarda caso gli aeroplani volano e la scia sparisce in un attimo non rimane la scia assolutamente vedi pazzesco il cielo guarda caso è zucco nessuno lascia scia hai visto ma chissà perché da noi fanno specie e diventano una nuvola infinita è bello che un aereo dovrebbe andare più o meno dritto ma guarda facciamo sempre facciamo sempre virate vedi invece di andare dritti l'aeroplano sta sempre bello virato tutte orbite chissà perché senza la dritti qua l'aeroplano pazzesco virate e ancora virate che figata guarda che figata passiamo sopra a Rosse Nen non è la Rosse Nen come cazzo si chiama? qui là qua su alla casa di Paolino è è e qui qui è è è Grazie a tutti.